Il tempo degli economisti è un saggio del 2019 di Benjamin Appelbaum, responsabile economico e commerciale del comitato editoriale del New York Times. Il libro segue la crescita dell'ideologia neoliberista dagli anni 60 a oggi e spiega come gli economisti hanno lentamente preso il controllo della politica. Per ragioni di tempo citerò soltanto alcuni punti. Il primo è questo. Durante gli anni 60 l'influenza del pensiero keynesiano inizia a diminuire. Nel decennio che va dal 1959 al 1969 circa all'interno del governo americano si consuma una faida tra economisti. Da un lato ci sono i keynesiani e dall'altro c'è la scuola di Chicago guidata da Milton Friedman. Al centro del dibattito c'è una semplice domanda. Quanto lo Stato dovrebbe cercare di gestire e di controllare l'economia? Negli anni 30 la grande depressione aveva paralizzato l'economia mondiale. I prezzi delle azioni e la produzione erano crollati e un lavoratore americano su 4 era disoccupato. Quindi stiamo parlando di un tasso di disoccupazione del 25%. Di fronte a questo disastro l'economista britannico John Maynard Keynes aveva sostenuto che il governo sarebbe dovuto intervenire nel mercato con massicci programmi di spesa pubblica. Così facendo i cittadini avrebbero ripreso a lavorare, a guadagnare ovviamente e a spendere i loro soldi in beni e servizi, creando così un circolo virtuoso che avrebbe fatto rifiorire l'economia. Il presidente Franklin Roosevelt utilizza quindi questo approccio, seppur in modo moderato, permettendo agli Stati Uniti di uscire lentamente dalla crisi. Anche nei decenni successivi le scelte di politica economica rimangono più o meno fedeli a questa linea. E alla fine degli anni 60, ad esempio, il presidente Johnson usa questa logica per giustificare politiche sociali come Medicare, Medicaid e altri programmi contro la povertà. C'era però un problema. Tutta quella spesa causava inflazione e sebbene il puro che in esismo avesse previsto questo effetto e avesse indicato l'aumento delle tasse come soluzione, una scelta del genere sarebbe stata troppo impopolare per essere implementata. Friedman e i suoi seguaci offrono quindi una soluzione al problema. In un discorso tenuto nel dicembre del 1967 all'American Economic Association, Friedman sostiene che lo Stato non debba avere un ruolo, tra virgolette, pesante nell'economia, ma soltanto tenere a bada l'inflazione gestendo l'offerta di moneta. Questa strategia, che si chiama appunto monetarismo, è un approccio molto radicale alla finanza pubblica che diventerà sempre più popolare nei decenni successivi. Passiamo adesso al secondo punto. Gli economisti hanno sostituito il discorso morale con l'analisi costi-benefici. L'autore ci fa il seguente esempio. Allora supponiamo che tu, lettore, sia l'amministratore delegato di un'azienda che costruisce camion. Un giorno accade un terribile incidente tra uno dei tuoi camion è un'automobile. E nell'automobile tre persone muoiono. Dopo che gli ingegneri della tua azienda hanno esaminato i rottami, determinano che l'installazione di alcuni componenti aggiuntivi su ogni camion possa impedire futuri incidenti di quel tipo. Cosa fai? Ascoltare gli ingegneri sembrerebbe una cosa ovvia. Ma un economista potrebbe avere una prospettiva diversa. Installare quei componenti, infatti, avrebbe un costo. E se le collisioni fossero relativamente rare, salvare poche persone potrebbe avere un costo altissimo per l'azienda. Di conseguenza, la decisione se installare o meno i sistemi aggiuntivi dipende dal valore, in termini monetari, della vita umana. Può sembrare mostruoso e immorale giudicare la vita umana in termini di denaro. Ma questo è proprio ciò che hanno fatto negli ultimi decenni gli economisti, mettendo questo tipo di analisi costi-benefici al centro delle scelte legislative dei governi. Tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta, il governo americano ha creato organismi come l'Agenzia per la protezione ambientale e l'Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, con lo scopo di far rispettare leggi che richiedevano, ad esempio, l'installazione di filtri dell'aria nelle fabbriche e limiti all'inquinamento, con l'obiettivo di proteggere la salute delle persone indipendentemente dal costo. Queste politiche però non sono durate. Molti economisti, infatti, hanno sostenuto che qualsiasi regolamentazione avrebbe dovuto essere soggetta a un'analisi costi-benefici. E per fare ciò era necessario calcolare il costo di una vita umana, che nel 1972 l'economista Howard Gates ha stimato in circa 200.000 dollari. L'amministrazione Reagan ha poi portato avanti questa stessa linea e nel 1981 tutte le agenzie di regolamentazione sono state costrette a rispettare l'analisi costi-benefici. Negli anni successivi, sempre più normative a protezione dell'ambiente e dei lavoratori sono state accantonate per motivi economici, anche se salvavano vite umane. E oggi il costo di una vita umana è un parametro ancora utilizzato negli Stati Uniti come parte del processo legislativo. Passiamo adesso al terzo e ultimo punto, che è questo. Pinochet ha messo in pratica le idee di Friedman con risultati catastrofici. Nel 1973 le forze di Augusto Pinochet, con l'aiuto della CIA, rovesciano il presidente eletto Salvador Allende. E negli anni successivi l'esercito imprigiona, tortura e uccide migliaia di dissidenti. L'economista Milton Friedman vede però questi accadimenti come un'opportunità. Così nel 1975 si reca a Santiago del Cile per incontrare personalmente e per consigliare il dittatore. Il Cile non è mai stato un paese ricco, ma all'inizio degli anni settanta la situazione era promettente. Nel corso dei decenni precedenti infatti, il governo aveva utilizzato il potere dello Stato per sostenere un'economia industriale emergente. E nel 1973, ancora con Allende, il reddito pro capite della nazione era del 12% superiore alla media dell'America Latina. Allende voleva proseguire in questo tipo di sviluppo, ma Pinochet prende una strada diversa, affidando il controllo dell'economia della nazione ai cosiddetti Los Chicago Boys, cioè un gruppo di economisti di destra e sostenitori del libero mercato formatisi all'Università di Chicago, che applicano ovviamente le tesi di Friedman. Tagliano infatti i programmi di spesa del governo, rafforzano l'offerta di moneta e privatizzano le aziende. L'economia cilena viene quindi sconvolta in brevissimo tempo. Grandi fasce della classe operaia del paese perdono il lavoro, mentre un piccolo numero di sostenitori di Pinochet diventa ricchissimo. Pinochet elimina inoltre i controlli sui capitali e le normative finanziarie del paese, cosa che permette agli investitori stranieri di prendere il controllo di gran parte delle risorse naturali del Cile. All'inizio degli anni Ottanta il Cile è più indebitato di qualsiasi altro paese della regione e alla fine del decennio il paese è meno prospero di Cuba. Nel 1990 Pinochet viene finalmente estromesso, ma l'eredità del suo esperimento di libero mercato rimane tuttora. Bene, questo video termina qui. Come sempre vi ringrazio sinceramente per l'attenzione. Ciao a tutti e alla prossima!